Ciao a tutti, ciao a tutte, buongiorno. Potrei parlare di mille notizie dal terremoto a tutto quello che succede, però volevo da musicista, da persona che lavora nel mondo della musica, dello spettacolo da anni, io vorrei fare le condoglianze agli artisti in gara a Sanremo perché purtroppo la loro musica è morta. La loro musica è morta perché questa mattina io non ho guardato Sanremo, mi sono rifiutato dopo aver saputo che Amadeo è diventato il portavoce di Zelesky, ufficiale di Zelesky, mi sono rifiutato. Ho acceso questa mattina un po' le notizie, ho acceso il computer guardando le varie notizie, le varie pagine web, le varie testate giornalistiche e sperando di trovare da musicista un po' di sana e buona musica e io invece che trovare musica ho trovato tutt'altro. Cioè nel senso che di Sanremo di fatto non è venuto fuori nulla a livello musicale, hanno parlato solo di altre cose. E di cosa hanno parlato? Intanto buongiorno a tutti, attento che siate collegati e veramente stendo un vero pietoso su quello che è la comunicazione post prima giornata di Sanremo perché si parla di tutto tranne che di musica. Di fatto la musica italiana è morta, è morta seppellita. Quindi faccio le condoglianze ai cantanti per la morte delle loro canzoni e dei loro brani. Perché il giorno dopo, intanto buongiorno, vedo che vi state collegando, il giorno dopo Patrizia, Roby, Antonio, Anna, Lella, Lia, Maria e Annalisa, abbiamo Stefano, abbiamo Teresa, abbiamo Angela, abbiamo tanti ragazzi amici collegati. Il giorno dopo le cose. Ok, l'algoritmo cerca di staccarmi. Andiamo a capire. Io ho guardato fuori dal coro, ho seguito Mario Giordano, permettendo. Quindi questa mattina accendendomi sono trovato questo in merito a Sanremo. Questa immagine, no? Questa immagine dove internet fa i capricci. Questa mattina internet fa i capricci. Mi sono trovato questa immagine, questo selfie con Chiara Ferrani, Morandi, il presidente Mattarella e Amadeo e la moglie di Mattarella. Mi sono trovato questo selfie. questo è uno degli argomenti post Sanremo. Poi mi sono trovato, mi sono trovato un'altra immagine che questa me la sono guardato perché infatti dissi ieri sera, quando è che inizia Mario Giordano? Prima di Mario Giordano ho dato un'occhiata. Guardando questa scena, a mio parere, ipocrita, ipocrita, strappagata sicuramente. L'anno scorso ho preso, se non sbaglio, 300 mila euro. Non ci sono state alla fine smentite, quindi penso che li abbia presi anche quest'anno mi sono trovato questo personaggio, Benigni. Benigni chiaramente è di sinistra, dichiaratissimo di sinistra, che ha fatto un discorso, una morale sulla Costituzione italiana che sarebbe anche giusta se il suo partito, il PD, non fosse stato il maggior attore del calpestio vergognoso di questi tre anni della Costituzione italiana. Quindi secondo me ha fatto un argomento pisciando fuori dal vaso il caro Benigni perché ha parlato di una cosa giusta, ovvero la Costituzione, i padri costituenti, andando a dire, parlando di un articolo, in particolare il 21 della Costituzione italiana, che è stato calpestato, buttato nel cesso. In Italia non c'è né libertà di scelta, né libertà di parola, non c'è libertà di un cazzo in Italia. Quindi Benigni hai completamente pisciato fuori dal vaso con un monologo ipocrita di un'ipocrisia mai vista. È chiaro che con i soldi voi dite quello che vi dicono di dire, questo è ovvio. Quindi Benigni, l'argomento di Sanremo, ma non la musica, il secondo argomento. Andiamo avanti, prossimo argomento. Invece che la musica, questo è l'argomento. Per far sì che vengono rispettati i diritti delle donne o questa, io sinceramente non condivido la scelta di andare sul palco vestita così. Questa è la conduttrice, non dico nome e cognome perché non mi interessa, faccio fatica anche delle volte a ricordarlo, questo personaggio. Questa è la vestita, quindi il giorno dopo non si parla di musica, ma si parla di com'era vestita la co-conduttrice di Sanremo. Io ho guardato i commenti, forse non sapendo condurre, come ha detto la gente che ha detto che è proprio inadeguata condurre, ha dovuto compensare con un abbigliamento. A mio parere non consono per una prima serata televisiva sulla tv di stato vista anche dai bambini. Questa è la vestita perché questa mattina mio figlio per caso ha visto l'immagine scorrendo sul cellularino perché lo stanno condividendo tutti. Questa immagine ha detto, papà a me era nuda? Era nuda. Io ho detto, no, è un vestito fatto così. Vabbè, ho dovuto giustificare questo personaggio televisivo. Altra scena, non si parla di musica a Sanremo il giorno dopo e per questo faccio le condoglianze ai miei colleghi musicisti, artisti, perché la musica è andata in quarto piano, non in secondo piano, è stata buttata nel cesso, quest'altra scena vergognosa. Io lo dico ai ragazzini, questo è l'esempio di come non deve essere un artista sul palco. Guardate, questo personaggio che ha vinto Sanremo l'anno scorso, che ha deciso perché non si sentiva bene, perché non si sentiva bene di spaccare tutto il palco, tutti i fiori e tutto. Per quelli appena collegati, ricapitoliamo velocemente. Invece che parlare di musica, questa mattina hanno parlato di questo tutti i media. Invece che parlare di musica il giorno dopo la prima puntata di Sanremo, a questo punto dico, io che avrei guardato Sanremo solo e esclusivamente per la musica e non l'ho guardato proprio per queste cose, ho fatto bene a non guardare a guardare Mario Giordano, perché guardate, hanno parlato di questo. Quindi i selfie del nostro presidente insieme a Chiara Ferragni, a Morandi, a Medeo e la moglie di Mattarella. Tra parentesi Mattarella è stato inquadrato più lui degli artisti, sinceramente, quindi tantissimo rispetto per il nostro presidente. Tra parentesi ho scoperto che il papà di Mattarella è uno dei padri costituenti della Costituzione e quindi mi fa star male ancora di più questa cosa sapendo che il papà di Mattarella è uno dei papà della Costituzione italiana e la Costituzione in questi tre anni è stata calpestata in modo vergognoso da chi ci ha governato. Quindi è una cosa che il papà di Mattarella dall'alto dei cieli spero che abbia visto la cosa e che abbia suggerito al nostro presidente di farla rispettare perché è fondamentale. Andiamo avanti, andiamo avanti. Benini, discorso ipocrita di Benini che ha parlato di Costituzione, articolo 21, quando in verità è stato calpestato dai suoi politici, quelli che ha sempre sostenuto, ovvero il PD. Andiamo a vedere Chiara Ferrani che è stata contestatissima per questo abito, ma d'altronde deve compensare, come ho letto in rete, io non ho visto come conduce, quindi quello che sto leggendo è che non sa condurre e quindi ha compensato in questo modo per apparire e basta, e questa sceneggiata che tutto è tranne che musica, di questo ragazzotto qua blanco che ha vinto l'anno scorso e che ha spaccato il palco. Vabbè, condoglianze alla musica. Amici, condoglianze veramente ai miei amici musicisti perché la musica purtroppo è morta. Si parla di tutto tranne che di musica a Sanremo e per me non merita di andare in onda una trasmissione del genere. Non l'ho guardata, io ho semplicemente riportato quello che sto leggendo questa mattina nelle notizie. Fuori dal coro, bellissima, dopo parleremo di fuori dal coro perché ci sono molte fuori cose molto, molto pesanti. Ciao a tutti e buona giornata!